Dovete usare il drone per trovare una bomba Come, 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 is up il disinnescatore è di nuovo nostro dovete trovare disinnescare una bomba come here ricarico hey hey guys he's here drone in funzione fumogenom resta solo un operatore d'attacco i think i don't have the time i think i don't have the time difendete l'area e proteggete le bombe i think i don't know 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 what the fuck i think i don't know i think i don't know i think i don't know What are you doing? Novo caricature Resta solo un operatore d'attacco Difendete le bombe E' un operatore Posizione bomba sicura Un nuovo finta 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 un operatore alleato rimasto un operatore alleato L'inquadro d'attacco ha trovato una bomba. Hanno trovato una bomba. Va difesa. Missione fallita. Difensori neutralizzati. La bomba è una bomba. Siete autorizzati all'ingaggio. Trovate l'ossaggio e procedete al punto di estrazione. Alla larga! Siete autorizzati. Siete autorizzati. un bel buco gigantino resta solo un operatore d'attacco un nemico squadra d'attacco eliminata difendete le bombe filo spinato pronto barricata pronta attenzione la squadra d'attacco ha trovato una bomba rimbersaglio nel mirino ingresso sicuro hanno trovato una bomba va difesa attenzione la squadra il Difensori eliminati, missione fallita